La squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento è pronta. Meloni daremo il massimo per la nazione. Cingolani sul gas, il paese in sicurezza. Inverno tranquillo, avremo problemi sui prezzi ma speriamo di concludere sul price gap. Save the Children, nelle zone di guerra più rischi di nozze precoci, l'allarme dell'organizzazione nella giornata internazionale delle ragazze. La mezzia termi si allaga all'aula bunker, sospeso il processo rinascita Scott, infiltrazione d'acqua sul pavimento provocata da un temporale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.